No, no, che c'è? Avevi ragione tu. La lettera è arrivata oggi. Siamo gli scienziati. Dovete incazzarvi come non vi siete mai incazzati in vita vostra. Dovete fare un casino che perfino Gesù Cristo scende dalla croce. Oscar, maledice. La teriretta ragazzi, la terrazza di Castel Sant'Angelo è il posto giusto. Voi barricatevi da su e mi verranno a riprendere anche l'antore. Il casino cospico. Ma che è sto l'accello? Non lo so che cos'è ma è bellissimo. Ma perché gli elicotteri? Siamo solo per il segnale. Alcuni messi ci hanno scambiato per terrorismo. Oh, oh barocco. Non fate una tragedia. Piuttosto ci siamo tutti a fare qui. Ma che ne so? Ma che ne so? Sono con la grande striscione. Così capiscono chi siete e che si tranquillizzano. Suo lavoro? Sì, non freddo. Davo questo, striscione. Ma non freddo, non freddo. Signora, andate a casa. Io questo da guardo un po' al solito. Sì, e' un po' al solito. Sì, e' un po' al solito. Ve l'ho detto, adesso vedrai che arriveranno quelli della costura, madonna. La costura? Ci metteranno d'arte da arrivare. Stanno cercando di capire chi siete e come comportarsi. Ti dà a giudire. Prima il tutorial. Non è bene il tutorial, mi prego, che mi sentite? Il tutorial vuole. Non ci capiscono al genio! Ma non vedi che sono tutti i miei nomi. Non abbiamo ancora i miei nomi. Dai, da sotti. Anche a voi, andate. Venite, vacca! Abbiamo vestiti preinterviene. Chiaramente di me che pare con il terrorismo. Ma sappiamo anche che non siete solo. Che avete preso il nostaggio a un uomo. C'è gente della casa di cura di Valeria E questo ha un regalo bravissimo Ma qual è il stagio? Il mio stagio! Oddio!